Benvenuti a tutte e tutti e tutto qui al centro sociale Pedro per questa seconda giornata di Sharebooks Winter Festival. Siamo alla seconda presentazione di oggi, sono qua con Luca Pakarov, autore di Cesco e il grande tossico che andremo a presentare, edito da Fandango Libri. Luca è giornalista, prima di essere scrittore di romanzi, collabora con Il Manifesto, scritto anche per Rolling Stones e Il Tascabile e anche altre testate. Ha pubblicato anche La Traccia Seguente, un libro inchiesta pubblicato con Agenzia X e adesso si occupa, tra le altre cose, di Circo Contemporaneo con la compagnia El Grito e collabora con il Montelago Celtic Festival. Questo è il suo romanzo d'esordio. Intanto ti do il benvenuto Luca, grazie di essere qui. Grazie a voi e soprattutto al Pedro perché ne avevo sentito parlare mille volte, non c'ero mai venuto, quindi sono contentissimo. Fra l'altro per me il centro sociale è un luogo che mi mette meno ansia di altri, quindi questo quindi è il primo romanzo, ho scritto altre cose e quindi già parlarne è la prima presentazione, carico pesantissimo. Dai, quindi il fatto di essere un centro sociale atteno a quest'ansia, dai. Allora, comincerai subito con raccontare qualcosa della storia, più che della storia del protagonista e il protagonista è appunto Cesco, uno dei protagonisti, che è un ragazzo di provincia, un tossicodipendente, un po' una mezza calzetta diciamo. Che tipo è Cesco e che sentimenti vuole suscitare il suo personaggio nel lettore? Allora, Cesco è un ragazzo dolce, solo che è cresciuto nel luogo sbagliato con le emozioni sbagliate. Allora, cerco un attimo di fare un piccolo cappello che se no mi perdo. Sicuramente, per dirla nei termini della critica musicale, il tappeto sonoro di tutto il romanzo resta l'eroina. Però quando io ho cominciato a scrivere questa cosa qua, la mia intenzione era quella di trattare soprattutto un determinato periodo storico che erano i primi anni 2000. Anche per una questione anagrafica, sono nato nel 77, quindi era per me il momento dello sviluppo, anche critico, sociale, politico e in un certo senso lavorativo. Adesso svio completamente la tua domanda, però perché mi serve un po' per far entrare un po' meglio all'interno del personaggio. Quello che a me interessava di quel periodo lì era che c'erano stati dei cambiamenti, macro cambiamenti, eventi che in provincia non erano tangibili, si vedevano molto poco, come ovviamente l'11 settembre, il G8 di Genova, anche lo stesso cambio lira euro. Dall'altra parte però c'erano stati dei cambiamenti sociali che si avvertivano direttamente sulla pelle delle persone e anche in provincia, che era per esempio l'inizio del lavoro liquido, del precariato, l'apertura delle agenzie interinali, c'erano le prime richieste di lavoro le ho fatte alle agenzie interinali, il cambiamento, lo sviluppo dell'ufficio di collocamento, che non era l'ufficio di collocamento, diventava centro per l'impiego e questo era causa della... riforma tre o prima e poi delle successive, quindi tutta una serie di questioni che in provincia toccavano effettivamente. Poi in quegli anni c'era l'avvento di internet, nato negli anni 90 però nei primi anni 2000 ci trovavamo tutti quanti con una mail, almeno che lei aveva toccato era di quegli anni lì, era il cambiamento del paesaggio, io sono nato in provincia, sono nato in una zona di campagna dove c'è parecchia campagna intorno, c'era il verde e cominciare a vedere questi immensi centri commerciali che devastavano il territorio e allo stesso tempo c'era anche la crescita esponenziale dei supermercati, ora tutti questi contenitori di cose diventavano, portavano le cose dentro le case, quindi io quando ero di quell'età lì andavo in giro sempre con un'agenda tipo questa qua e segnavo tutte le cose che stavano scritte, che vedevo dentro le case, quindi tutta la bigiotteria, i quadri, i piatti, queste case che erano troppo piene. Il romanzo si apre proprio su Cesco che sta dentro questa casa in cui sente la sofferenza di questa materia che lo sovrasta e da lì secondo me parte un po' quello che per me sarebbe stata la critica sociale che c'è all'interno del libro, sotto traccia ovviamente è un romanzo, però era necessario averci l'occhio di un ragazzo che è sicuramente intelligente, però che si sente sprofondare dal peso di vivere in un ambiente in cui contano solo le cose. Sì, infatti volevo farti una domanda riguardo a questa lunga descrizione della casa dei genitori di Cesco che mi aveva profondamente colpita, però hai risposto. Quindi il secondo personaggio fondamentale che c'è anche nel titolo è il grande tossico, GT per gli amici diciamo, che è il pusher di riferimento di Cesco, da qui però lui decide di allontanarsi ad un certo punto. GT è forse l'opposto di Cesco, è un po' la sua controparte, quindi lui che tipo è e soprattutto che rapporto hanno questi due? Il GT doveva essere una specie di motore immobile, il nome tutelare dell'eroina è quello che tramanda la filosofia, infatti ci sono punti in cui spiega il perché bisogna farsi di eroina, qual è la motivazione e cosa gliene viene a chi si fa di eroina. Allo stesso tempo è un personaggio anche abbastanza bastardo perché è scaltro, è calcolatore, il rapporto con Cesco è particolare perché il GT vede che Cesco potrebbe essere il suo successore all'interno della casa sulla collina che è dove si spaccia, però quest'altro vuole andarsene, quindi questo diciamo che è l'aspetto un po' drammaturgico che ho creato all'interno del libro. Però per esempio ascoltando, parlando con gente che già ha letto il libro, il libro è uscito giovedì passato, quindi ecco perché è anche la prima presentazione fra l'altro. qualcuno trova simpatico il grande tossico, lo trova avvincente, altri lo odiano, quindi è un'ambiguità che mi piace che sia uscito fuori qualcosa che non sia definito al cento per cento. Io non so se l'ho amato o l'ho odiato in realtà, non so se l'ho amato o l'ho odiato, devo pensarci. Ci sono diversi aspetti, punti che tratti, temi che tratti in questo libro e uno che mi ha colpito particolarmente è il rapporto con le donne, perché è un aspetto della vita di Cesco di cui è così come quella di Garbo, che è il terzo personaggio. Per loro donne è un po' uguale sesso, sono delle comparse nella storia perché sono un po' delle comparse nella loro vita. Volevo leggere un passaggio che mi aveva molto colpita. Qua è Cesco, il protagonista di questo passaggio è Cesco e dice, nella sua condizione il sesso non era l'attività che preferiva, ormai non ci metteva un briciolo di entusiasmo ed esattamente un secondo dopo l'orgasmo, quando riusciva a raggiungerlo, alla fuoriuscita dell'ultima goccia, la morbosità e la tensione evaporavano. Iniziava a odiare profondamente la persona che gli era vicino. L'eroina aveva un gran pregio, quando gli si rizzava poteva star lì delle ore, anche se ormai preferiva i porno in rete. Non c'era niente di meglio che masturbarsi e cliccare sulla X per chiudere la pagina. Si era evoluto appagando i sensi. Il sesso gli risultava ormai poco naturale, troppo abituato ai pixel sui quali bruciava gli occhi e agli ottimi primi piani della telecamera. Mi aveva molto colpito questo passaggio. Ti volevo chiedere, secondo te, da dove viene questa incapacità di reazione, questo quasi disgusto per l'incontro con l'altro? È solo un effetto dell'eroina o ha una causa più profonda che passa anche per qualche altra fragilità? No, io di proposito lì ho messo i pixel, quindi ho spostato il rapporto umano, la prossimità verso la persona con cui si fa sesso. L'ho traslata di proposito verso quello che stava diventando nei primi anni 2000, quella che poi sarebbe diventato parte della nostra vita, perché passiamo gran parte della nostra vita ormai su un social network o su internet. io quello che ci tenevo a far emergere, adesso poi non so se sia uscito e quindi per quanto riguarda la questione della donna, io sono pigro e ho raccontato un po' alcune storie che ho conosciuto e ovviamente l'ho ibridata e donne non ce n'erano e quindi sì, forse manca quell'aspetto lì, che poi qualcosa c'è, però a me interessava far vedere un po' l'idiosincrasia che c'è fra il mondo interiore dei protagonisti che non funziona, che è rotto e diciamo quello esteriore in cui sono funzionali. In questo senso si può essere funzionali anche su internet, nel senso che mi funziona bene, mi masturbo, premo una X e ho finito. Poi quello che riguarda invece la prossimità con una persona diventa mondo interiore. Io su questo qui ci ho giocato praticamente su tutto il romanzo perché a me interessava, io penso che per esempio l'eroina non venga mai giudicata né il tossicoma né venga mai giudicato all'interno del libro. a me avevo necessità di raccontare una rivolta esistenziale che combattesse la soggettività fatta da una società verticale perché poi il patriarcato c'è, è molto evidente all'interno come è secondo me, spesso è in provincia, il patriarcato che io ho conosciuto era forte e tuttora credo ci sia insomma e comunque la società verticale che interpreta il mondo interiore come profitto, almeno parte del mondo interiore e sul profitto ecco che per questo poi all'interno del libro parlo soprattutto per quello che riguarda internet, del porno online che diventa una possibile forma di profitto del protagonista di Cesco. Sì, poi è vero questa cosa che tanti degli aspetti della loro vita è proprio basata sul profitto e un'altra cosa che avevo notato è che anche tutte le figure sanitarie che Cesco incontra dalla psicologa al medico di base agli educatori della comunità anche loro un po' giocano molto sul profitto, cioè è il loro obiettivo e questi incontri sono intrisi di, cioè sono tra il comito e il tragico diciamo che ridiamo per non piangere e sono intrisi di pietismo ma anche di menefreghismo nei confronti del paziente e di paternalismo anche di giudizio in qualche modo, almeno mi è sembrato. Al giorno d'oggi un po' questo atteggiamento farebbe un po' orrore forse anche se sono sicura che non in tutti i contesti. Vorrei provare a ragionare un attimo per assurdo se avesse incontrato persone diverse la sua storia, la storia di Cesco sarebbe cambiata? Sicuramente sì, ripeto io ho cercato di raccontare quel determinato periodo storico perché poi era dove perlomeno io ho percepito che c'era questa estrema mercificazione anche della parte interiore di ognuno di noi. All'esterno Cesco incontra quelli che insomma nel viaggio dell'eroe vengono chiamati falsi amici, i falsi amici sono quelli che vogliono prendersi cura di lui, chi è che si vuole prendere cura di lui? Sono quelli che hanno il centro per l'ascolto. Perché vogliono prendersi cura di questa persona qui, quelli del centro dell'ascolto? Perché poi scopri, e questo anche per scrivere il libro insomma ho dovuto fare diverse interviste e confrontarmi con ovviamente ho letto anche però con diverse persone che comunque erano incampati in questi tipi di personaggi che sono hanno la carità, portano sulle spalle la carità cattolica, sono completamente convinti di fare del bene ma non hanno gli strumenti. Magari perché gli è morto il figlio dover dose, ci dispiace a tutti però poi non è detto che tu sappi andare fuori qualcuno da certe situazioni tra cui lì c'è proprio un personaggio nello specifico che insomma viene descritto in questa maniera. Se avesse incontrato qualcun altro, sì poi è sempre sliding doors, pure io se avessi incontrato a vent'anni un altro tipo di persona forse non sarei qui. Altro tema centrale nel libro è proprio il lavoro, l'hai nominato anche prima, il lavoro precario. Il lavoro ha tanti significati in questo romanzo, tanti funzioni, c'è ovviamente il lato economico perché poi i soldi servono per incorrere, per cercare e per permettersi le dosi. C'è però anche il lato sociale, il lavoro soprattutto per Cesco diventa quasi un riscatto. Lavorando lui crede di acquisire forse un certo rispetto agli occhi della società però poi il lavoro diventa anche noia, diventa frustrazione e alla fine i protagonisti sistematicamente perdono in questo gioco e lasciano, abbandonano un lavoro dopo l'altro. Queste avventure dei protagonisti tra aziende interinari, lavoretti occasionali, il bar, l'attacchinaggio, i progetti di affari sul web di cui parlavi anche prima, mettono in luce un aspetto molto attuale anche adesso che è proprio quello del lavoro precario e l'apoteosi di questo vissuto è quello dell'episodio in fabbrica in cui gli operai cercano di rincorrere spasmodicamente un posto fisso mal pagato e poi alla fine non ci riescono nemmeno. Questa insofferenza nei confronti di un sistema rende il lavoro davvero un incubo. Secondo te quanto è cambiata questa cosa e quanto ci si può rivedere in questo vissuto di Cesco e di Garbo soprattutto? Ora io non lavoro più in fabbrica però lavoro che ho fatto anche durante la scuola quando facevo le superiori per pagarmi la vacanza andavo due mesi d'estate a lavorare in fabbrica perché da noi quello c'era poi finita la scuola ho cominciato a lavorare in fabbrica. La storia per esempio che lavoro racconto lì dentro dentro la fabbrica del luci la chiamo quella lì sinceramente l'ho vissuta così come la racconto perché ho visto adesso senza che spoiler però insomma quella situazione di quella persona che viene fatta mandare via io l'ho vista così come la racconto. Fra l'altro quando io sono entrato in fabbrica avevo anche l'immaginario dei compagni della lotta degli operai io quello che ho visto però io parlo dei posti dove sono andato a lavorare io quindi ovviamente non sono tutti io sono delle marche forse la mentalità era diversa però io avevo visto già un grande individualismo chi può ti fa fuori non si non se ne capisce nemmeno il motivo perché poi non è un lavoro gradevole magari per essere più in vista sotto dal caporeparto che poi il caporeparto semplicemente era la Cuzzino io adesso non so com'è però c'ho l'impressione che sia molto peggiorata perché adesso anche se fai una lotta adesso penso a Firenze ma dalle mie parti adesso sta accadendo la dismessa della Caterpillar di Iesi e malgrado si facciano lotte proteste picchetti vanno avanti tranquillamente e non succede niente né dalla società civile né da tanto meno della politica quindi ho l'impressione che ormai sia anzi salve chi può e nel momento in cui io racconto la storia credo che per lo meno per me poi non so io non conosco insomma il movimento operaio non è che adesso qualcosa conosco però non ho una visione così ampia e la capacità di raccontarlo attraverso romanzo però quello che io ho visto in quel periodo lì era effettivamente una mancanza di senso completamente io racconto di questa fabbrica che si fece e questa diciamo la parte di autofiction del libro io non volevo fare autofiction però insomma un po' ci sono cascato come ci cascano tutti autofiction non è né un memoir né un'autobiografia l'autofiction prendere un po' pezzi della propria vita rimescolarli ibritarli con altro e metterli all'interno di un di un contenitore che è il romanzo e cercarli di far funzionare qualcosa che fanno tutti basti non so pensare a carrer adesso non per mettermi in paragone per carità ma non solo lo stesso nabokov per descrivere il viaggio di lolita con ambert utilizzò diciamo le descrizioni che lui aveva fatto durante il viaggio che aveva fatto con la moglie vera mentre andavano in cerca di farfalle perché lui era un entomologo insomma quindi ognuno tira fuori qualcosa di noi ritornando alla questione fabbrica a me è stato veramente deludente trovarmi in un ambiente in cui non mi sentivo aiutato da nessuno appoggiato da nessuno e adesso fra l'altro ovviamente con un contratto interinale la prima volta o a tempo determinato la prima volta che rompi le scatole vieni mandato via ma poi se non vieni mandato via la chiudono la fabbrica quindi insomma io nel libro non si salva nessuno adesso questo lo posso anticipare questo è proprio senza speranza visto che hai aperto la parentesi autofiction ti butto lì una domanda se sei un personaggio a cui ti sei più affezionato in cui ti rivedi un personaggio a cui ti sei più affezionato nel romanzo ma mi piacciono i cattivi quindi nel grande tossico era quello che mi piaceva più scrivere più raccontare ma poi allora io ho mandato il le prime bozze a fandango al mio ditore a gennaio dell'anno passato perché io stavo scrivere sta roba poi ho visto che era uscito sampa ho visto il successo che aveva fatto detto ma qui me sa che questa è una storia che ancora funziona cioè non mi ero reso conto che poi effettivamente è ancora un tema caldo in italia vero che san patrignano è diciamo contestualizzato in un altro periodo storico in un'altra proprio in un altro spazio tempo però lì mi sono reso conto che forse c'era ancora qualcosa da dire e quando lo mandai a fandango subito mi hanno detto ci leggiamo quello che ci ha mandato e la cosa che subito mi hanno fatto notare che era un argomento che non era stato trattato di quegli anni lì perché effettivamente adesso io ovviamente non è che conosco tutti i libri sull'eroina che sono usciti però effettivamente era qualcosa che credo mancasse insomma ne è stato contento sempre a partire dalla tua biografia tu sei originario di macerata che poi è dove è ambientato il tuo romanzo qual è stata la genesi di questo libro nel senso è venuta prima l'esigenza di raccontare il territorio da qui vieni e quindi poi la scelta di farlo in forma narrativa o è venuta prima l'esigenza del cioè oppure la scelta dell'ambientazione è stata una scelta naturale nel momento in cui hai deciso di volerti approcciare alla scrittura narrativa no nel senso che no non volevo trattare macerata allora macerata non viene mai nominata questo perché per me era importante parlare non di una provincia ma della provincia perché poi in italia pochissime persone in rapporto a tutti gli abitanti italiani vivono in suolo metropolitano cioè provincia quasi tutti abitiamo in provincia e a me piaceva un po' io su quel tipo di provincia che io ho raccontato diciamo la parte oscura l'ho resa un po' più ipertrofica anzi sicuramente l'ho resa ipertrofica perché insomma ci sono delle dinamiche che io ovviamente non ho vissuto solo a macerata insomma ho riscontrato in altre province che insomma può essere l'invidia la chiusura verso l'esterno la paura del nuovo tutte quelle cose che in provincia ci sono sempre e per questo macerata io non l'ho nominata mai la verità che sono picro e quindi stavo in lockdown attorno c'avevo solo quello ho preferito insomma raccontar quello lì ma era molto più facile forse avrei dovuto cambiare i nomi dei paesini intorno in modo che non fosse sempre indicizzata macerata come infatti mi sa che con cittadini non l'hanno presa benissimo una domanda su sullo stile diciamo questo è il tuo romanzo d'esordio ma appunto come dicevamo anche prima all'inizio hai scritto come giornalista per per anni per diverse testate e quindi la scrittura non è una novità per te vorrei farti due domande a riguardo la prima quanto ti sei portato dietro dalla scrittura da giornalista nello scrivere questo romanzo e e poi all'altro stile è stato descritto simile a quello di gianfante io non ho letto nulla di gianfante però ho iniziato proprio ieri sera un suo libro per documentarmi e però alcune scene soprattutto forse anche per proprio per il tema mi hanno ricordato un po pasto nudo di non so pronunciarlo barrocks esatto non sapevo pronunciarlo giusto e ma anche un po bucoschi quindi americani quali sono in realtà le tue fonti di ispirazione di se ti senti che qualche autore qualche autrice ti ha influenzato nella tua scrittura a me quello che normalmente piace più fare e che su cui lascio parecchie energie quando c'è la possibilità è il reportage narrativo reportage narrativo è un individuo fra letteratura e giornalismo in cui l'io di chi scrive entra all'interno però insomma devi devi calibrarlo molto bene perché poi sentire un autore che va magari a scrivere un reportage narrativo su una fabbrica occupata e sentire tanto io diventa secondo me molto è nocivo per per chi legge poi insomma diventa autoreferenziale per quanto riguarda il libro questo qui ehm ho dovuto lasciare abbastanza la il discorso giornalismo mi sono dovuto dedicare tantissimo alla voce la voce eh è quello che riesce a tenere insieme personaggi diversi eh personaggi che eh come i tre protagonisti principali si trovano in contesti diversi si trovano in situazioni diverse e ehm tramite la voce eh riesci e insomma non far uscire mai comunque il lettore da quel mondo lì e su questo ci ho lavorato parecchio e per quanto riguarda i riferimenti io prima di mh di scrivere il libro sicuramente ho letto diverse cose anche sul tema eroina come piccola città di Vanessa Roghi che è stato un testo importantissimo qualcosa di più tecnico che era legato al proprio all'aspetto tossicologico che era eroina di Salvatore Giancane per esempio che è un tossicologo del Sert di Bologna e poi ce ne sono tanti ovviamente c'è l'archetipo è tra i spotting di Irvin Guèche poi eh ma anche i giorni la rotonda di di Silvia Vallestra eh Focofato di Dre della Rochelle ce ne sono tanti eh personalmente poi quando sono andato a scrivere sono testi che non ho potuto toccare anche perché rischiamo anche di copiarli c'è non lo fai cosciamente però magari vai a ripetere cose che hai letto là e se no vabbè io sono affezionato di Harry Miller e Selin insomma vado da quella parte là quindi quando mi sento perso che non ho letture buone ritorno magari a quello ecco e beh un'ultima domanda poi eh beh prima chiedo se c'è qualche domanda dal pubblico no ok allora vado in chiusura con un'ultima domanda e ti è piaciuto scrivere un romanzo e lo rifarai? No no guarda no no non lo so nel senso che è stato veramente estemporaneo e legato alla pandemia perché non 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 ci avevo pensato avevo delle idee in mente e poi sono stato fortunato di aver trovato anche una casa editrice seria che insomma è riuscita a colmare aiutarmi a colmare alcune lacune che ehm io all'inizio ho fatto una linea del tempo esasperante esasperata esasperante per loro che la leggevano era una specie di pal fiction e quindi se andava avanti e dietro nel tempo io ero convintissimo che funzionasse loro mi hanno detto no e quindi insomma non lo so magari più avanti sì adesso no e poi questo è appena uscito quindi ai lunghi mesi di presentazioni davanti io ti ringrazio molto per grazie a te grazie a voi grazie a tutti quanti insomma e ricordo al nostro pubblico alcune le presentazioni che ci saranno dopo alle 17 ci sarà la presentazione del fumetto conoscere il vino con una degustazione edito da becco giallo e mentre alle 18 e 30 ci sarà la presentazione di complotti di leonardo bianchi con l'autore edito da minimum fax e infine eh concludiamo questo sharebook su winter festival 2022 con eh live di fuori dai denti con anche un live painting di Elena Sofia eh il libro di Luca è su lì eh al al banchetto di Becco giallo e Fandango quindi immagino che Luca li firmerà per chi vuole e vi ringrazio dell'ascolto e buon proseguimento a tutti grazie 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 a tutti